Buongiorno da Telpress Italia, primo piano nota stampa di sabato 30 ottobre. Tra i temi della difesa, l'ospedale da campo arriva dopo l'emergenza, scrive il fatto. Ora che il peggio sembra passato e da un pezzo, è pronto l'ospedale da campo per i malati Covid di Avezzano. E non è uno scherzo. La struttura, chiesta inutilmente dai cittadini della Marsica durante la seconda ondata di pandemia, che si è battuta come un ciclone su questo angolo di Abruzzo, attende solo di essere inaugurata anche se nessuno intende metterci la faccia. Né il presidente della regione, Marco Marsilio, che quando il mormo vieteva vittime a tutto spiano aveva detto che l'ospedale non serviva e chi lo chiedeva complottava per metterlo in difficoltà, né è possibile chiederne conto al commissario per l'emergenza generale Figliuolo, che a ridosso dell'estate, nonostante i dati fossero nel frattempo diventati rassicuranti, aveva deciso comunque di avviare una gara per realizzare la struttura per la non modica cifra di 1,3 milioni di euro. Sul Corriere la lettera di un ex alpino che racconta di essere stato vittima di nonnismo e fa riferimento alla vicenda della sergente allievo ufficiale pilota Giulia Schiff che si era opposta all'espulsione dell'auronatica militare italiana in risposta alla sua denuncia alle autorità militari del grave episodio di nonnismo subito in caserma. Sono sconcertato, dice Alberto Campanelli, ex alpino settantenne, dalle sentenze che non le danno ragione. Il mio risentimento viene da lontano. Il sole evidenzia l'ottimo ed efficace dispiegamento di forze dell'ordine e militari dell'esercito, polizia locale, circa 9.000 agenti in tutto per i G20 di Roma. Sul fatto, la precisazione dell'auronatica riferita al 28 ottobre, giorno in cui hanno sorvolato a bassa quota, i cieli della Val di Fiemme in Trentino, che sarebbero della Belgian Air Force e non statunitensi come si era inizialmente pensato, l'ha reso noto l'aeronatica spiegando che nessun velivolo militare italiano era in volo in tali zone, nel giorno e negli orari indicati. Tra i temi esteri, Biden e Draghi, patto in nome della democrazia. Il presidente degli Stati Uniti elogia il premier. Fai un gran lavoro, scrivono la Repubblica, la stampa ed altri. Corsa contro il tempo del premier per salvare il G20. L'ex banchiere chiede aiuto agli Stati Uniti e corteggia l'indiano Modi per trovare l'accordo sul clima. Alla vigilia del Vertice dei Grandi, i due leader rilanciano il legame transatlantico. Il presidente americano apre alla difesa dell'Unione Europea, intesa sul rilancio dell'economia, missione europea per sbloccare le merci. Biden, abbiamo bisogno di dimostrare che le democrazie funzionano e possono produrre un nuovo modello economico, come state facendo voi. Il modello Italia dimostra che le democrazie funzionano. Draghi, grazie per il sostegno nella transizione ecologica. Dobbiamo chiarire che la partnership tra Unione Europea e Stati Uniti è molto forte. Il premier spinge la difesa europea e incassa l'apertura di Washington. Una UE più forte fa bene anche agli Stati Uniti. Incontro con Mattarella, intesa col presidente, e Draghi su ambiente, vaccini e sicurezza. Il presidente della Banca Mondiale, subito aiuti su dosi e debiti. Non puniamo i paesi poveri. 90 minuti di Biden col Papa, schiaffo ai vescovi americani. Felice che Biden riceva la comunione, scrivono la Repubblica, il Corriere ed altri. Il doppio del tempo concesso a Trump. Risate e scambio di doni. Il presidente, il pontefice, è contento che sia un bravo cattolico. Ma non si parla di aborto, intesa su climi, clima e diritti. Lei è il più grande combattente per la pace che abbia mai conosciuto, grazie per la sua difesa dei poveri del mondo. Il Papa ha detto una preghiera per me e abbiamo parlato della necessità di essere responsabili sul clima. La diplomazia dell'ostia è l'aiuto di Francesco, gradito alla Casa Bianca. Il teologo Fagioli, un gesso che rafforza la laicità dello Stato e difende la modernità. La sfida di Bergoglio è la difesa della libertà religiosa. Massimo Franco sul Corriere dice Italia, Germania e Francia sono state citate come nazioni vulnerabili alla manipolazione russa, non meno dell'Ucraina o di altre repubbliche ex-sovietiche. Rimane da capire quanto questo allarme sia fondato e approvato, ma di certo gli Stati Uniti sono tornati in Europa, come ha detto ieri Biden nel colloquio al Quirinale con Mattarella, col ruolo della Nato ancora centrale, recuperando i rapporti con la UE incrinati dal predecessore Trump. Gli Stati Uniti siglano la pace con Macron. Sui sottomarini siamo stati goffi, scrivono la Repubblica e il Corriere. I due presidenti superano la crisi per il patto AUKUS, intesa su Sahel, la Libia e la difesa europea. Dobbiamo guardare al futuro, ci siamo chiariti, siamo di fronte ad un ritrovato processo di fiducia. L'intervista a Boris Johnson su Repubblica agire per salvare il clima o crolleremo come l'antica Roma. Roma e le sue meravigliose rovine sono il luogo perfetto per il G20 e per la COP26 che inizia domenica, perché ci ricordano che, se non aggrediamo il cambiamento climatico, una civilizzazione straordinaria può crollare a una velocità terrificante. Non è un paragone azzardato. È incoraggiante se gli europei si impegnano sempre di più nell'area dell'Indo-Pacifico per far rispettare le leggi internazionali. Ho chiesto al presidente Xi Jinping di anticipare al 2025 la riduzione delle emissioni, ma non mi pare di averlo convinto. Angela Merkel, la regina dei vertici a braccetto con Scholz, per la continuità tedesca, scrive La Repubblica, passaggio del testimone della grande dam dei G20, ossia dell'unica leader ad aver partecipato a tutti i 17 i summit da 2009, quando furono avviati sull'onda della crisi finanziaria. I temi chiave del G20 sul messaggero, clima, stop centrali a carbone, ma Xi non ci sta, energia, estrarre più petrolio, la richiesta americana per fermare i rincari, la Cina vorrebbe evitare valutazioni intermedie sui target. L'India chiede i nuovi parametri, pro capite per le emissioni, spaccatura tra G7 e i paesi in via di sviluppo, Mosca siamo nella stessa tempesta, ma non sulla stessa barca, la Francia spinge per ammettere il nucleare tra le fonti verdi, Europa pronta a dare l'ok, Nord Stream 2, il gasdotto russo che arriva in Germania, agita gli animi ora che i verdi sono nel governo tedesco. Summit internazionale, letta tra Scholz e Sanchez per puntare a Palazzo Chigi e all'alleanza progressista, scrivono La Repubblica e la Stampa, serve una nuova Schengen sui migranti, i leader europei di sinistra celebrano il ruolo del welfare durante la pandemia, così si batte il virus. Le altre sfide, gestire con equità, transizione ecologica e industria digitale. Per i temi dell'economia, pensioni e cassa integrazione, il governo apre, sindacato diviso sullo sciopero, scrive il messaggero, Draghi non si aspetta uno sciopero dai sindacati, vista l'apertura del governo. Verranno rivisti in senso più favorevole i criteri anagrafici per l'accesso a opzione donna. Inoltre, con la manovra, arriva una semplificazione della cassa integrazione e in molti casi un aumento dell'assegno. È stato abolito il primo tetto per la cassa integrazione, lasciando in vigore solo quello più alto. Oggi c'è il summit dei sindacati per decidere sulla mobilitazione, scrive il Corriere. Landini della CGL dice no alla protesta per la protesta. Il Corriere riporta un vademecum sull'effetto dei nuovi requisiti sugli assegni. Reddito, ecco, chi rischia di perdere il beneficio. Da quota 102 all'app sociale, tutte le strade per andare in pensione nel 2022 sul sole. Governo ha lavoro su opzione donna. La soglia anagrafica scenderà sotto i 60 anni. Il giornale parla invece di scarsa chiarezza in merito a tasse, lavoro e pensioni. Un esempio concreto di queste problematiche interpretative, scrive il Quotidiano, è rappresentato dal taglio delle tasse per 8 miliardi che il Premier ha fatto lievitare a 12. Altri dubbi riguardano welfare e le pensioni. E sulla riforma degli ammortizzatori che la legge di bilancio estende a tutti i lavoratori e a tutti i settori, scoppia il caso del terziario su stampa. Tutte le associazioni di settore sono infatti molto preoccupate per l'aumento dei costi e per questo ieri hanno chiesto un incontro urgentissimo per un confronto con Draghi e il ministro Orlando. Commercianti all'attacco, una stangata alla cassa estesa, tutti il terziario denuncia aumenti di 73 euro a dipendente. La viceministra dello sviluppo economico Todd parla alla stampa. Cambieremo il 110%. L'addio a cashback favorisce chi evade. Assurdo voler affossare una misura antipovertà come il reddito. Allargheremo la platea per il super bonus e ora il decreto contro le delocalizzazioni per proteggere anche le piccole imprese dell'indotto. E sui lavori gravosi, la stampa riporta che essi salgono a 82, sì, al ritiro, con 30-36 anni di contributi. Il governo stanzia un miliardo, a segno massimo di 1.500 euro lordi. Damiano, presidente Commissione Lavori Usuranti, definisce grave non aver accolto la protesta di ridurre il requisito contributivo previsto per gli edili, visto che quelli che muoiono di più sono proprio nella fascia d'età, sopra i 60 anni. I nodi della manovra sul messaggero, sul super bonus, pesano lo sconto in fattura e la nuova soglia Ise. I costruttori ritengono che le novità in arrivo saranno un freno ai lavori. Lancia ha calcolato un fabbisogno di mano d'opera nel settore edile di almeno 265.000 unità, tra operai, impiegati, professionisti e tecnici specializzati da immettere velocemente nel settore. Il presidente buia, limite di reddito a 25.000 euro da rivedere, così è troppo stringente. Il ministro Giovannini parla al messaggero, grandi opere pronte al via, assegnati i fondi del piano, con la manovra il PNRR, spiega una spinta alla crescita per dieci anni. Entro il 2021, collocati 62 miliardi del recovery, poi controlli a tappeto. C'è un forte impegno del governo sulle infrastrutturali e la mobilità sostenibile all'interno di una strategia volta a tenere il tasso di investimenti pubblici superiore al 3% del PIL per i prossimi anni. E sulle imprese, secondo il ministro Colau, sul Corriere, con il PNRR, c'è più coraggio di innovare. Con i fondi del PNRR possiamo ammodernare il paese facendo le stesse cose che facevamo prima, solo in modo più semplice e veloce. Il Corriere, la Repubblica ed altri quotidiani evidenziano il PIL, la cui crescita supera quota 6%, ma aumenta anche l'inflazione, più 2,9% come nel 2012, e lo spread sale a quota 128. L'Italia è prima in Europa e spinge sugli investimenti. PIL, oltre le stime, ora punta al 7%, riporta il sole. Il messaggero segnala terremoto, altri 6 miliardi per la ricostruzione civile delle regioni del centro Italia, già avviati 4.000 cantieri. Legnini, solo quest'anno, autorizzati 1,5 miliardi di contributi. Su verità, l'allarme bollette, tante aziende fermeranno la produzione, dice l'assessore Lombardo Guidesi. Alcune aziende hanno già annunciato la sospensione della produzione a dicembre. E per la politica, lotta alla pandemia, Covid, più casi e ricoveri, rischi per l'inverno. Indice RT sopra 1 nel Lazio, riportano il messaggero, la stampa e tutti. L'ISS avverte, possibile una recrudescenza epidemica, la circolazione del virus è irrisalita in tutte le regioni, allarme a Trieste, ospedali pieni nelle città Novax. e nasce una Task Force dei Ministri della Salute e delle Finanze del G20 per raggiungere un obiettivo ambizioso, vaccinare il 70% della popolazione mondiale entro il primo semestre del 2022. Ricciardi, intervistato dalla stampa, assicura il freddo moltiplica i casi, ma in ospedale finiranno quasi solo i non vaccinati. La terza dose durerà almeno sei mesi, non sono esclusi altri richiami. Anche l'epidemiologa Salmaso al Corriere dice i dati saliranno ancora. Il Covid circola tra i bambini non coperti dal vaccino, aumento nella fascia a 6-13 anni e tra i novantenni. L'epidemiologo La Vecchia invece a Repubblica dice anticipare la terza dose a quattro mesi per fermare il virus. Verità attacca il Green Pass è l'ennesima prova che il certificato non serve ad impedire i contagi, scrive. Eppure il governo pensa di prolungarlo fino alla prossima estate. La foto riportata da Verità è libera dei banchi a rotelli finiti in discarica, simbolo degli errori da non rifare. DDL Zan ora Renzi esce dall'angolo sul DDL colpa del PD noi contrari al voto segreto scrive la stampa il fondatore di Italia Viva si sfoga non sono io il killer della legge contro l'omofobia Salvini al PD la Lega è pronta a discutere una nuova norma in Senato PD ex Renziani contro la rottura la replica ormai Italia Viva sta con Salvini scrive la Repubblica dopo lo strappo tra i due partiti sul DDL Zan la corrente di Guerini corre ai ripari guardare oltre le polemiche i lettiani Renzi è già a destra e su Repubblica c'è la lettera di Matteo Renzi ecco cosa è successo al Senato e perché hanno vinto i populisti il PD ha deliberatamente scelto di rischiare sulla pelle delle persone omosessuali transessuali con disabilità i dirigenti DEM hanno preferito scrivere post indignati sui social anziché scrivere leggi in gazzetta ufficiale e naturalmente si è scatenata la campagna di aggressione contro chi proponeva il compromesso a cominciare da Italia Viva e Renzi imprima anche sul fatto il divanista è Renzi assente due volte su tre è presente appena il 39% di votazioni per il resto è in missione o assente ingiustificato per il 41% per conferenze a gettoni eccetera intanto è arrivato l'ok ai sei referendum sulla giustizia promossi da Lega e Partito Radicale l'ha stabilito la Corte Suprema di Cassazione scrive la stampa Libero attacca i magistrati tremano si vota la giustizia la Cassazione approva i sei coesiti per responsabilizzare le toghe e riformare il CSM raccolte oltre 4 milioni di firme da Lega Radicali giornale parla di giustizia fatta via ai referendum ok della Cassazione si voterà per riformare il sistema il sindaco di Milano Sala parla a Repubblica bene usare i soldi dell'Unione Europea per spingere il Sud però bisogna anche saperli spendere e per questo servono stazioni appaltanti grandi ed efficaci e aggiunge la battaglia per l'ambiente deve aggregare più mondi e fa discutere l'ordinanza antiprostituzione del sindaco di Terni e Latini che vieta di indossare la minigonna minacciando sanzioni in alcune zone della città perché potrebbe suscitare la convinzione di esercitare la prostituzione riportano la stampa ed altri quotidiani è tutto per questo appuntamento una buona giornata da Telpress Italia di Terni di Terni